Mentre scriviamo è già di 25 morti e più di 500 feriti il bilancio provvisorio delle violenze in corso in queste ore ai confini della striscia di Gaza, dove migliaia di palestinesi stanno manifestando in concomitanza con l'inaugurazione dell'ambasciata USA a Gerusalemme, prevista per stasera. Il bilancio è in crescita di ora in ora. L'esercito israeliano spara a vista, dopo aver raddoppiato le sue forze sia a Gaza che in Cisgiordania, comprese l'unità di intelligence. Nella notte di sabato l'esercito aveva bombardato Kerem Shalom, il principale punto di transito di merci e gas fra Gaza e Israele, mentre ieri la moschea di Al-Aqsa è stata occupata da più di un migliaio di coloni israeliani in un gesto di chiara provocazione. Nel frattempo iniziano i preparativi per una cerimonia a dir poco controversa. Su 28 stati dell'Unione Europea, solo quattro presenzieranno l'inaugurazione dell'ambasciata USA a Gerusalemme, Austria, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria. Con il loro rifiuto a partecipare, gli altri paesi membri sottolineano il loro impegno verso l'assoluzione dei due stati. Una posizione ribadita dal presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, in linea con altri paesi extraeuropei come Russia, Messico e Australia. All'inaugurazione non sarà presente Donald Trump, che manderà un videomessaggio, ma ci saranno sua figlia Ivanka, accompagnata dal marito e consigliere presidenziale Jared Kushner, nonché dal segretario del Tesoro Steven Mnuchin e dal vice segretario di Stato John Sullivan. Non si tratta di un do-ut-des con Tel Aviv, ha dichiarato l'ambasciatore USA-Israele David Friedman, ma di una decisione presa nell'interesse degli Stati Uniti. Sia la OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che il governo palestinese, insisteranno sino all'ultimo affinché gli USA revochino la propria decisione. Domenica 13 maggio, il capo della diplomazia iraniana Mohamed Javad Zarif ha dato il via a una serie di incontri internazionali sul futuro dell'accordo sul nucleare. La prima tappa si è svolta a Pechino, dove l'omologo cinese Wang Yi ha ribadito l'impegno della Cina per la protezione e l'attuazione dell'accordo. Anche i colloqui di oggi a Mosca con Serghi Lavrov hanno dato risultati positivi. È stato infatti ribadito il sostegno della Russia sia all'intesa sia alla cooperazione economica tra i due paesi. Mentre domani, martedì 15 maggio, Javad Zarif sarà già a Bruxelles con i ministri degli esteri di Francia, Germania e Regno Unito e con il capo della diplomazia europea Federica Mogherini. Completando così gli incontri con tutti i paesi firmatari dell'accordo, tutti i contrari al ritiro degli Stati Uniti, che da parte loro hanno già attivato le pressioni sugli alleati, sia in Europa che nel Medio Oriente. Le aziende europee che violeranno le misure americane contro l'Iran potrebbero diventare esse stesse oggetto di sanzioni, ha dichiarato domenica il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton. Mentre Donald Trump ha ricordato ad Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bahrain di aver speso per loro 7 mila miliardi di dollari e di aspettarsi qualcosa in cambio. In questo clima intimidatorio, il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Tero Vargioranta, ha annunciato venerdì le proprie dimissioni. Qualcosa di simile accadde nel 2002 con l'ex presidente dell'Opac, Giuseppe Bustani, che si era rifiutato di confermare la presenza di armi di distruzione di massa in Iraq. Una visita di John Bolton all'Aia fu sufficiente per convincerlo a uscire di scena. Vargioranta, intanto, sarà temporaneamente rimpiazzato dall'italiano Massimo Aparo. Il 12 giugno, Donald Trump e Kim Jong-un si incontreranno a Singapore. Fonti anonime citate dall'Agenzia di stampa giapponese Nikkei riferiscono che anche il leader cinese Xi Jinping e quello sudcoreano Moon Jae-in presenzieranno all'evento. Di altro avviso la Casa Bianca, la cui portavoce Sarah Sanders ha espresso dubbi sulla partecipazione di Seoul. Gli analisti, scrive Nikkei, si aspettano per l'occasione tutta una serie di concessioni da parte della Corea del Nord, accettare la completa denuclearizzazione della penisola coreana, interrompere lo sviluppo di missili balistici intercontinentali e avviare negoziati per concludere un trattato di pace formale che ponga fine alla guerra. Mike Pompeo ha già offerto in cambio non meglio precisati benefici economici, sui quali però difficilmente Pyongyang farà affidamento, specialmente dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo con l'Iran. Mentre le armi nucleari sviluppate nel corso degli ultimi anni dalla Corea del Nord stanno già entrando in servizio. Con tutta probabilità quindi anche Kim Jong-un stabilirà le sue condizioni, rendendo le suddette concessioni molto meno impressionanti. Per la completa denuclearizzazione della penisola, ad esempio, Pyongyang potrebbe chiedere agli Stati Uniti di rimuovere l'ombrello nucleare dalla Corea del Sud ed esigere la fine delle manovre congiunte ai suoi confini. Nel frattempo, con un gesto di buona volontà che Donald Trump ha definito su Twitter cortese e intelligente, Kim ha annunciato per il 23 maggio la chiusura ufficiale del poligono nucleare di Pyongyang, alla quale potranno assistere i giornalisti di Stati Uniti, Cina, Russia, Corea del Sud e Regno Unito. Data la situazione e come misura preventiva, ho deciso di intavolare dei negoziati con il Fondo Monetario Internazionale per ottenere un appoggio finanziario. Così ha annunciato il presidente argentino Maurizio Macri, martedì 8 maggio. Si tratta dell'equivalente di circa 30 miliardi di dollari. Le misure adottate sinora non sono servite a stimolare l'economia e da rilanciare il peso, ai suoi minimi storici rispetto al dollaro, e che ha perso quest'anno un quinto del suo valore. L'annuncio ha scioccato un paese già traumatizzato dalla crisi del 2001 e dalle politiche di austerity richieste proprio dal Fondo Monetario Internazionale. Il debito totale equivale a più di 257 miliardi di dollari, fra i creditori principali Goldman Sachs e BlackRock. La decisione potrebbe forse calmare gli investitori stranieri, ma aumentare la frustrazione interna di una popolazione impoverita e con livelli di disoccupazione alle stelle, e che è già scesa in piazza a protestare. Nel fine settimana, la coalizione occidentale a guida americana ha condotto un doppio bombardamento nell'est della Siria. Il primo sul villaggio di Al-Khamadi, il secondo invece sul villaggio di Khidaj, entrambi nel governatorato di Al-Hasaka. Come riporta la stampa siriana, l'attacco ha provocato 17 vittime tra i civili, tra cui 4 bambini. Il Ministero degli Esteri Russo ha ripetutamente condannato i bombardamenti della coalizione occidentale, effettuati senza il consenso di Damasco e senza una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno declinato l'invito del Kazakistan a partecipare al nono round dei colloqui di pace inter-siriani ad Astana, con inizio oggi, lunedì 14 maggio. Presenti invece le delegazioni degli Stati Garanti, ovvero Russia, Turchia e Iran, del governo siriano e dell'opposizione armata. Anche l'inviato speciale dell'ONU per la Siria, Staffan de Mistura, è arrivato oggi nella capitale kazaka. Grazie a tutti!